Grazie a tutti. Grazie al gremio e alle signore del gremio che ci danno una mano, soprattutto agli amici portatori che anche loro ogni giorno ci davano la spinta per poter andare avanti. Questa è la cosa più importante. Un voto che si fa e si scioglie soprattutto per la Madonna Assunta. Nel nostro voto è racchiusa, come in tutti i gremi, la città. Per noi è importante come gremi sciogliere il voto per la città. Fede, passione e tradizione. Guido, l'ultima cosa. Voi avete un ruolo importante perché siete coloro i quali poi fanno da tramite con la municipalità. È importante e anche un bell'onere. Assolutamente. Noi abbiamo questo dovere da secoli ormai ed è il fattore di rappresentare la città e di avere un rapporto con la municipalità che è molto importante. e cercare di far capire che noi non siamo soltanto il gremio più antico ma siamo anche le persone che rappresentano la città al momento del Brindisi e di fronte comunque alla municipalità. Come si dice? A cent'anni.